Ma non drammatizzerei, capita, capita. Quando sei in prima linea, io in prima linea ci sto da 20 anni, questi tipi di messaggi affettuosi arrivano spesso, devono essere un segnale di incoraggiamento quando arrivano, vuol dire che sei sulla strada giusta. Giannolo è un po' confuso, fa bene a pensare agli errori che ha commesso, si è svoltato pagina, lui faccia quello che vuole e noi andiamo avanti per la nostra strada.